Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Gli insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato a condunzione. E mi ha mandato a portare i poveri in lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolsi il rotolo. Lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo Il Vangelo di questa domenica, dentro il tempo natalizio che contempla Gesù bambino, si spiega in questo modo. Si spiega con la stessa semplicità con cui anche noi diciamo che ogni bambino che nasce sulla terra ha una sua personalità, un suo carattere, ha una missione, un compito da svolgere. Ogni bambino nasce per essere qualcuno di originale e per una realizzazione particolare. I genitori sono chiamati ad aiutare i figli proprio in questo compito, anzitutto di capire se stessi, di conoscersi nel loro carattere, nelle loro doti, magari anche in qualche loro difetto, e poi anche gli aiutano a intraprendere una professione, un compito per le loro capacità. E tutto questo si concretizza in quello che uno vuole essere da grande e vuole fare da grande. E quindi noi spesso chiediamo ai bambini cosa vuoi fare da grande. In genere la loro risposta è una imitazione dei grandi ed è condizionata da un buon esempio, da un forte influsso, dei genitori o dei maestri, degli adulti. Una parentesi però. Vedete, noi quando a mia età, insomma, sapevamo chi eravamo e che cosa volevamo fare da grande. Però colpisce il fatto che oggi, per esempio, tanti ragazzi, tanti adolescenti, anche giovani, giunti all'età di dover fare delle scelte per i loro studi, quale orientamento di studio, o per il loro lavoro, sono in crisi, sono indecisi. Il fatto che tanti ragazzi sono in questa situazione ci deve far pensare. Sono ragazzi che non sanno bene neanche chi sono. Hanno una specie di crisi di identità, di personalità. Sono ragazzi che non sanno neanche cosa fare nella vita. Hanno una crisi di vocazione, di professionalità. Perché questo? Probabilmente è frutto di una società. La società di oggi è la società del gender, che uno non sa neanche se è maschio o femmina. È la società di disoccupati, che uno non sa neanche che cosa deve fare, quello che può fare. È la società soprattutto di tante famiglie separate, tante famiglie disfatte. E allora questi ragazzi si sentono soli, si sentono confusi, sono insicuri. Probabilmente è perché sono stati un po' anche abbandonati, trascurati dai genitori, che non erano presenti, che non erano comunicativi, che non erano educatori e operativi. Ma chiusa questa parentesi. Ecco, in quello che si vuole fare da grandi c'è sempre una componente di soddisfazione delle proprie doti, delle proprie capacità, dei propri doni, delle belle qualità, dei pregi, per cui uno realizza una personalità ben riuscita. C'è pure una componente anche di gratificazione da parte degli altri, per i quali si è di aiuto, di utilità, di servizio, di lavoro, per cui uno acquista un certo senso della sua professionalità, della sua missione ben realizzata. Ebbene, anche per Gesù. Vediamo nel Vangelo la stessa cosa. Il Signore Gesù è appena nato a Natale, nella liturgia naturalmente, e qui già il Vangelo della Chiesa ci fa vedere e capire quello che Lui è da grande, cioè la sua personalità, il suo carattere, la sua indole. Ci fa vedere quello che Lui fa da grande, la sua missione, la sua vocazione, diciamo la sua professione. E vediamo nel Vangelo di oggi che Gesù ha una bella personalità, una personalità bella, forte, che subito diventa famosa. Quando uno è famoso vuol dire che ha una certa incidenza di personalità, forza di personalità. La sua fama, dice il Vangelo, si diffuse in tutta la regione. E poi anche, qui vediamo che è tratteggiata da già realizzata la missione di Gesù, ciò che Lui fa di positivo e di utile, e questo suscita lode. Tutti gli rendevano testimonianza di che cosa? Dei miracoli che faceva, delle guarigioni, delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, del bene che Lui faceva. Ecco dunque, io penso che noi all'inizio dell'anno dobbiamo mirare davvero a imitare il Signore. Dobbiamo mirare anche noi ad essere il più possibile persone apprezzate e stimate dagli altri per quello che siamo. Dobbiamo mirare ad essere persone gradite e cercate dagli altri per quello che facciamo, sia per un certo senso di amore a noi stessi, che è giusto e salutare, di essere soddisfatti, realizzati nella propria persona, nella propria vita, ma soprattutto per amore agli altri proprio, che devono essere soddisfatti, appagati, contenti di noi. La carità al prossimo ci porta a non deludere il nostro prossimo, a non scontentarlo. Non dico solo per i bambini che devono accontentare i genitori perché studiano, perché sono obbedienti, ma in genere così è per tutti nella vita. Dobbiamo sempre chiederci e chiedere al nostro prossimo se è contento di come noi siamo, se è contento del nostro carattere che abbiamo, del comportamento che teniamo, di quello che noi realizziamo, di come facciamo il nostro dovere, il nostro lavoro, il nostro impegno. Purtroppo oggi, vedete, lo dico perché la tendenza non è questa della carità, ma è la tendenza all'indifferenza e alla chiusura, per cui uno cresce selvatico e maldestro, diciamo, selvatico in sé e maldestro con gli altri. Non si preoccupa di farsi una buona fama di se stessi, di essere apprezzati e stimati, di avere una buona reputazione, di avere un buon gradimento presso gli altri. Addirittura, mi sembra che si arriva qualche volta a prefiggersi di essere scorbutici, di essere scostanti, malvisti, mal sopportati, addirittura di essere odiosi e antipatici. Un cristiano non può adeguarsi a questa indifferenza e a questa maleducazione del mondo di oggi. L'esempio di Gesù ci porta davvero ad avere e a cercare un alto indice di apprezzamento e di gradimento presso gli altri, presso il nostro prossimo. Ci porta a vivere una relazione con gli altri che è basata sul presentarsi bene agli altri, sull'essere apprezzati, lodati, come Gesù che era lodato, che aveva anche una fama presso la gente. Quindi dobbiamo avere questo spirito di sincera, vera, generosa carità e bontà che ci fa cercare anche di essere il più possibile apprezzati dagli altri, accettati dagli altri, senza mai deluderli o scontentarli per come siamo e per come ci comportiamo. Allora vogliamo guardare un pochino meglio a Gesù nella sua persona e nella sua missione e scopriamo che la sua persona è forgiata e modellata dallo Spirito Santo. Lo dice proprio il Vangelo. Un duplice Spirito Santo che è praticamente un duplice carattere di Spirito Santo. Anzitutto lo Spirito come potenza. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito. Potenza vuol dire che il carattere di Gesù era forte, aveva un'energia morale stupenda, grande, un vigore spirituale forte. Questa frase con potenza dello Spirito indica che Gesù aveva un carattere tenace. La sua fermezza lo rendeva energico e risoluto nel rifiutare e contestare il male, nel condannare il peccato. Lo rendeva perseverante e forte nell'ubbidienza alla legge di Dio, nel perseguire la giustizia, la verità. ecco dunque la potenza, la forza di carattere, l'energia di carattere, soprattutto nei confronti di ciò che è male ma anche nel realizzare ciò che è bene. E poi il secondo Spirito è lo Spirito di bontà, di dolcezza, di tenerezza, di comprensione, di mitezza, che non è in contrasto ma va in parallelo a quello di prima. Lo Spirito del Signore sopra di me mi ha consagrato con l'unzione, l'unzione dello Spirito. questa frase ci dice che Gesù aveva un carattere amorevole, buono, come l'olio. L'olio è profumato, è nutriente, è terapeutico, quindi l'unzione dello Spirito lo rendeva anche compassionevole con i sofferenti, lo rendeva misericordioso con i peccatori, affettuoso con i piccoli, con i bambini, consolatore e guaritore dei manati, dei sofferenti. Ecco, nella personalità di Gesù convivevano e agivano questi due meravigliosi caratteri dello Spirito Santo, la potenza, la forza, la bontà, la dolcezza, il perfetto equilibrio, perfetta armonia, perfettamente integrati, dialoganti, questi due caratteri. Sono un esempio da imitare, un esempio affascinante, anche per la nostra personalità e il nostro carattere, che deve essere anche il nostro mosso, ispirato dallo Spirito Santo, non dallo Spirito del Marigno, certamente, neanche dallo Spirito di questo mondo e neanche dalla carne, come dice Paolo nella seconda lettura, cioè dei nostri istinti, dal nostro carattere personale. Deve essere il nostro e il carattere di Spirito Santo, come era in Gesù. Ma nel Vangelo vediamo anche l'attività, la missione, diciamo, la professione di Gesù nella citazione di Isaia, che Gesù dice sia compiuta, vedete in me, mi ha mandato a portare i poveri in lieto annuncio, a proclamare i prigionieri la liberazione dal mare, ai ciechi la vista, la guarigione, a rimettere in libertà gli oppressi l'esorcismo, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Questo era il lavoro che doveva fare Gesù, la sua missione, soprattutto di predicazione ai poveri, agli umili e di guarigione dei malati, dei sofferenti. E infatti, gli insegnamenti di Gesù, religiosi e morali, erano ricchi di sapienza, la sapienza che portava, insegnava la verità, la giustizia, la sapienza di Dio, di cui la prima lettura fa l'elogio e che vuole essere guida, istruzione per il popolo. E poi, le opere terapeutiche e consolatrici di Gesù che erano ricche della sua onnipotenza divina, per cui erano anche prodigiose e miracolose le opere del Signore. Ecco, anche qui, come possiamo imitare anche noi questa missione, questa professionalità di predicazione e di guarigione di Gesù. Beh, pensiamo ad esempio a fare dono agli altri di tanti consigli. Penso che tutti abbiamo acquisito chi ha un po' di età, una certa saggezza, no? E allora sarebbe importante dire, ma guarda, secondo me sarebbe meglio che tu fai così, stai attento a questo e a quell'altro. E quindi questa capacità di consigliare, anche di esortazione al bene, fai questo, fai quello, perché è importante che tu ti comporti così, cos'ha? E anche di ammonimento, guai a te se fai questo, stai attento a questo problema, a questa situazione, ti raccomando, anche di raccomandazione, ti raccomando, raccomandazione pressante, incoraggiamento al bene, forza, coraggio che ce la fai, suggerimenti di cose giuste, ti suggerisco di fare questo, quell'altro e poi di fare cose oneste, utili, indicazione delle cose belle e buone. Insomma, oggi c'è tanto bisogno di questa missione predicatoria, tra virgolette, naturalmente, soprattutto in famiglia, da parte dei genitori, quanto compito e servizio devono fare in questo senso verso i loro figli. E così pure anche fare dono, dare un servizio di sollievo, di sostegno a chi soffre, di solidarietà per i malati, per esempio, per i portatori di handicap, a chi ha problemi di poca salute o di cattiva salute, di chi deve superare difficoltà, anche fisiche, di chi soffre in tutti i sensi, fisico, psicologico e spirituale, di chi si trova solo e bisognoso. Ecco, anche qui c'è da fare tanto. È una missione da fare in modo personale, magari anche sociale, a livello di volontariato, di carità cristiana, di cui c'è sempre bisogno, c'è sempre spazio che non è mai sostenuto e coperto interamente dai servizi sociali. C'è tanto spazio per far del bene e tante persone che hanno bisogno di essere aiutate. Ecco allora l'esempio di Gesù. Questi esempi che abbiamo meditato del suo carattere e della sua missione ci offrono davvero tanti spunti per fare un bel programma di vita per il nuovo anno che abbiamo iniziato. Grazie.